Oggi, cari ragazzi, apriremo i Monster Flex di Bravomi. Cominciare da questo, Junior. Ecco qua, apriamolo piano piano, ecco qua, guarda che bello che è. Golden Freezer, piano piano. Grazie. La cosa può fare, ecco qua. sono molto, sono un po' unti però, e infine abbiamo vegeta, ecolo qua, vegeta super sea buona visione dall'action figure di dragon ball, monster flex, ciao da freezer, ciao da vegeta e ciao da junior e da freezer, ecco qua, ciao